Oggi ho voglia di coccolarmi e di indossare una delle mie fragranze preferite Oggi ho voglia di indossare una delle mie fragranze più rappresentative Ovvero questo gioiello qua Turan di Maid Perché ci sono così legato? Intanto perché l'ho lanciata io Sicuramente ho lanciato io tutto il brand Ed è stato uno dei primi brand ad entrare qua in profumeria da me Mamma mia che spettacolo Veramente buonissimo Turan è una fragranza che mi fa pensare ad una delle persone più importanti della mia vita Che non c'è più, che è in cielo, che è in paradiso Mi fa pensare ad un cielo fatto di nuvole soffici, candide, purissime È una vera e propria passeggiata sulle nuvole E stando sulle nuvole mi sento più vicino per la mia amatissima sorella Il neroli e i fiori d'arancio danno questo senso di morbidezza E lo zafferano dà un senso quasi metallico sublime L'ambra e la vaniglia e la tuberosa costituiscono il corpo floreale e dolce della fragranza E poi il paciuli e il legno di cedro e i moschi danno tanta tanta sostanza È una fragranza top che dura tantissimo sulla pelle, che ha una bellissima scia E che soprattutto ci mette in pace con noi stessi Grazie a tutti!